Come e quanto ci ha cambiato la pandemia? Come le nostre relazioni diventate virtuali o digitali hanno influito sul nostro cervello? E come governare questa rivoluzione senza compromettere il nostro equilibrio psichico? Proverà a rispondere a queste e ad altre domande il calendario di incontri organizzati dall'Università d'Annunzio Chieti-Pescara, Uda Smiles at You. Questo è il nome dato all'iniziativa che nasce dal desiderio del Rettore, il professor Sergio Caputi, insieme al prefetto di Chieti Armando Forgione di rispondere al bisogno diffuso di informazioni e di supporto su aspetti centrali per la ripresa della vita dopo la pandemia. Inauguriamo le attività della nostra università in Palazzetto dei Veneziani. Siamo stati fermi, non è stato possibile farlo prima perché appena acquistato l'immobile è venuto sul Covid. Questa idea è venuta da un discorso che abbiamo fatto io e il prefetto perché abbiamo notato che i ragazzi nel periodo post-Covid hanno subito un forte trauma da un punto di vista psicologico e un cambiamento delle loro abitudini di vita in quanto a movimento, in quanto a alimentazione e le visite presso gli psicologi di una certa fascia di età di ragazzi sono addirittura triplicate. Quindi abbiamo pensato di dare una mano alla comunità, non solo agli studenti universitari ovviamente, ma tutta la comunità, organizzando questi incontri che avranno una cadenza ciclica e che saranno coordinati dalla professoressa Esterlita Colonna e con il supporto del professor Tommasi, professor Fornari, della professoressa Ghinassi e di altri docenti della nostra università che si occuperanno di dare una mano, tra virgolette, alla società su questo.